Sì, sì, ho un bel GP Ah, regà, che ve saltate Una bella miniatura qua c'è stata però Aiuto, aiuto, aiuto Secondi, primer hunt Paolo, sui dove scappi Vieni qua, che ti chitti con marciapiede Pure noi un po' di marciapiede Prendiamo tutti i marciapiedi che prende Paoletto Ok, c'è qua dietro? Un X21 verde Che rima, frena, frena Veloce sui Ok, la scia non c'è, vero? Martalo con le città Sei proprio un cittone sui Andiamo, andiamo Farina, farina, farina Paoletto L'avevo visto il check io Voi l'avete visto? Tutti lunghi? No, Stefi l'ha visto, regà Andiamo Qua un colpito di farina ci vuole Ok Facciamo una curva larga? Sì, 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 va bene Facciamo attenzione pure qua Veloce sui Sta qua dietro Stefi Dove, di qua E poi di qua Prendi il check Lo sapevo io, lo sapevo io Che tagliavo il check sui Lo sapevo, lo sapevo Lo sapevo, lo sapevo io Pure te hai tagliato il check? Eh, perché Teoricamente la traiettoria giusta è stare in generale curva Invece dovevamo andare leggermente più larghi Oh, romana Come sto ai suoi occhi Che te trollo? Aiuto, mi trollo io Andiamo Io passo per di qua Che c'ho paura degli altri E mi rimetto qua per potente Ecco quello che succede Ho preso fuoco target Allora Server in corsa Guarda, mi fate andare avanti Ok Guardalo da riescer giù Come si infila Ah, non server in corsa Oh, regà Amica è face to face nel cubo qua Ah, squi Perché voli sui Ui, 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 tutto qua Sì, sì, sì Piano, piano, piano Ehi Ce la vai? Sì Non so che posizione sono Ok Le frecce indicano qua dentro Siamo vivi, siamo vivi Tutto ok Dobbiamo fare così? Sì, 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 sì Perfetto Andiamo a prendere questo bel check Da sotto E respawniamo immediatamente Fino adesso Che aredita fantastica Cosa dobbiamo fare qua? Ah, regà Come vedete c'è un wallride Che continua là Credo di sì E poi dobbiamo fare un cambio Vediamo Se ce la facciamo Romanaccio dove esci fuori Aiuto, aiuto, aiuto E qua è un po' pericoloso Allora Ci dobbiamo riscaldare Ok Aiuto No, regà No, 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 no Aspettate, eh Un tot Da dove esci fuori? Dai, di qua sui Mi chiede un GP, eh Ste level asianino Aiuto Va bene Credo Suppongo Di sì E dopo di che? Dove dobbiamo andare? Ah, ok, ok Ogni volta c'ho paura Di queste spirali Perché Lorenzo aveva messo il treno No, no Aveva messo una parte Dove bisognava passare in mezzo Quindi c'ho paura E sto sempre centrato Bella questa parte di romanaccio Veloce, veloce, però Sì Ok Cosa? C'è che sta là? Aspettate, aspettate Non ho capito bene Partiamo da qua Si può? No No Il check Un po' più veloce Bisogna andare Comunque appena si fa Questa parte Non bisogna andare veloci, eh Ce la fai sui? La perfezione Su Frena però Ok Ah, teoricamente Bisogna andare piano qua Dopodiché Si parte da qui Si va al massimo E poi si fa un 360 No, il 360 non si fa Però si prende il check Quella è la cosa più importante E qui Dobbiamo andare in quel wall ride Oh mio dio Aspettate Dove sei romanaccio? Eccolo qua romanaccio Per davanti sui Ho capito Bisogna rigirare la macchina così Vediamo un po' se ce la facciamo Però dobbiamo prendere questa parte bene Vediamo romanaccio Ok Bisogna andare tipo Qua Non proprio così, eh Dai sui Bello veloce Ce l'ha fatta romanaccio la prima Era no, no, no Sta qui È una parte strana, eh Wow Ci siamo concentrati Concentrati Non cambio, cambio Cambio il wall ride Dove hai il check? No Alto sui Ok, ok Mamma mia, regà Che ansia Ok I gambi qua Perfetto così No Brutto cambio No, però ci siamo No Qua sbatto E lo sapevo, regà Ci dobbiamo concentrare qua nei cambi Quanti sono? Non lo so, regà Non ho idea Aiuto Bello questo cambio Bello pulito Bello pulito anche questo Questo Eh, però qui Eh, no, regà Dovevo Stare Leggeramente più centrale Ok Brutto cambio Ma magari Nada No, regà Mi devo concentrare Aspettate Che mo Sto perdendo un po' La concentrazione Sono facili questi cambi Però Però devo stare zitto E questa è la cosa Non bisogna parlare Quando si fanno Questi cambi Volere Ok Ci siamo Tipo così Eh, no, regà Va bene, va bene Senti Troppo alto Sì, tutto ok Uno, uno, uno Uno, uno, uno Sì, sì, sì Tutto Ok State tranquilli Andiamo Cosa bisogna fare qua Quanti check mancano? Ah, uno Vedete, regà Quello del traguardo Non si conta di check Perché qua mi indica Che ne manca solo uno Perché Il traguardo Non lo conta come checkpoint Ok Qua dobbiamo fare Valutare aspettate Ok Non proprio Tra i sessanta Vedete Qualcosa dobbiamo fare Aiuto, aiuto, aiuto Dove? No, regà Non lo sapevo Non lo sapevo Oh Che sta succedendo? Non lo so Dobbiamo andare piano Al wallride Cioè Dobbiamo entrare piano Così almeno riusciamo a girare Siamo enterati Troppo spericolati Speriamo che ce la facciamo Di nuovo qua Ok No, 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 no Eh, lo sapevo, regà Ho perso il controllo Nel wallride Fino Aspettate un attimo Ci riproviamo Giro, giro Regà Non mi chiedete niente Per favore Che non lo so nemmeno io Questa fa Andiamo, andiamo Allora Devo girare Qua Perché se giro Subito Non ce la facciamo Rimaniamo centrali Ok Comunque prima Ce l'ho fatta Il primo colpo Romano Come stai? E vi giuro Che non è così facile Perché dobbiamo stare Belli precisi Perché freni sui? Fai fare Il level asianino tuo? Te lo faccio sui Aspettate Oh Andiamo Aiuto 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 Dai sui che sta arrivando Eppure da un lato A bravarlo Io Non ce la faccio Aiuto Sali 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 Alto Tutto ok Allora Qua dobbiamo andare piano Perché dobbiamo salire Esattamente qua Non troppo alti Ok Uh Qua bisogna andare qui E poi E poi cambia Wallerite Mamma mia Che stile D'Arzuinos Ollè Ci siamo Il traguardo Sta lì Proprio lì Andiamo Andiamo Allora Cosa dobbiamo fare qua? Facciamo Così Prometrollo Oddio Che parte Meravigliosa Respondiamo Respondiamo Bisogna saltare Dalla spirale Sì Sì Ovviamente Memoria Zero Xereditor Esaurita No? Sì Sporre Bacchata La play Guardate Che spettacolo Buono Meravigliosa Molto Non lo sappiamo Scusate di andare veloci Ci andiamo a prendere Una primera Eccolo Una bella Primera Comunque sia Se vi è piaciuta La gara di Romanaccio Chille Lasciate un bel Mi piace Iscrivetevi al canale Passate al mio Secondo canale Bigport E noi ci becchiamo Al prossimo video Bella E noi ci becchiamo